Allora, buongiorno, sono Giuseppe Lardieri, Presidente Municipio 9 e sono felice questa sera, forse si vede anche dal mio sguardo, per aver assistito ad uno spettacolo nello spettacolo e alla storia di Milano, perché avete fatto un bel lavoro, uno straordinario lavoro di ricerca, un lavoro nei particolari che ha rappresentato Milano, la trasformazione della città, la storia è fondamentale, io dico sempre che le persone dovrebbero leggere la storia Magister Vita Est, ma in effetti è così, noi ci troviamo nei palazzi, ci troviamo in dei luoghi e non li conosciamo, è un peccato, una volta dei ragazzi sono venuti da noi in il municipio e quando io ho chiesto il nome, se avessero mai visitato Villanau dove noi ci siamo, si guardavano in faccia, erano venuti già tre volte, ecco non conosce il posto dove si va, non conosce la storia della propria città, non la può amare, solo se si conosce la storia, i sacrifici di storia, le trasformazioni, quindi Milano che è una città, un movimento e io nella mia preparazione ho sempre scritto che amo questa città, come il mio paese per la sua dinamicità, per il suo modo di trasformarsi e dare sempre il meglio, ecco questo vuol dire che poi nel DNA dei milanesi, io non sono milanese ma mi sento tanto accolto, preso in pieno da questa città e quando sono arrivato a Milano all'università ho trascorso più di cinque mesi a girarmi la città a piedi, nel 1979 io dissi ma questa città è così bella, come mai viene così presentata al mondo solo come una città operosa, Milano ha tanta, tanta cultura e noi dobbiamo batterla, il nostro punto di riferimento, la nostra forza è la cultura, solo attraverso la cultura, la storia, la conoscenza e quella delle tre città conoscenza, consapevolezza, cura e quindi futuro, futuro per Milanesi. Grazie, grazie per mi date questa gioia questa sera.